linguaggio. Allora, ieri abbiamo già visto alcuni primi, diciamo così, istruzioni nel linguaggio Python e dove abbiamo usato l'istruzione print per visualizzare dei numeri o visualizzare dei test. Adesso oggi cerchiamo di entrare un pochino più in dettaglio in questa cosa, partendo appunto dal fatto che i numeri e stringhe di caratteri sono i tipi di dati più importanti in qualsiasi programma, in particolare Python, ma di tutti i linguaggi di programmazione. Quindi un algoritmo che gestirà ovviamente dati anche complessi, anche articolati, ma alla fine questi dati saranno basati sulla strutturazione, con modi diversi, di dati base che sono dati numerici e dati di tipo testuale, dati di tipo stringhe. E questi dati vengono memorizzati ed elaborati da qualche parte. Cioè è vero che io posso scrivere print 3, ma sempre 3 sarà. A me non interessa un programma che ogni volta stampa solo 3. Io voglio un programma che acquisisca dei dati e poi li possa elaborare. Così come facciamo gli algoritmi. Input A, B, C, input prezzo del mazzo di fiori, e così via. Ok, questo input poi dove lo mette il valore? Lo deve mettere da qualche parte dove questo valore viene ricordato, memorizzato e può essere poi riusato in un secondo momento. Allora questo è il ruolo della struttura informatica che si chiama variabile. Quindi impareremo cos'è una variabile, come creare una variabile in Python e come memorizzarci dei valori dentro e come elaborare i valori sulle variabili. Quindi partiamo dalle variabili. Allora chi ha già conoscenza di programmazione ad esempio in C, faccia il doppio di attenzione rispetto agli altri, perché è diverso. Questo è il passaggio in cui il linguaggio Python differisce di più da molti altri linguaggi di programmazione. Ok? Java è una via di mezzo già, ma chi programma in C invece ha un modello mentale di come funzionano le variabili molto diverso da quello che offre Python. Chi invece non sa il C è più tranquillo perché parte da zero. Poi non è difficile passare l'uno all'altro, ma bisogna fare attenzione perché ci sono dei dettagli. Allora, in Python noi possiamo memorizzare dei valori e riferirci a questi valori attraverso delle variabili. Il concetto di variabile e il concetto di valori sono due cose separate. Delle variabili sono semplicemente dei nomi che io do, dei nomi che scelgo io, di piacere mio, che mi servono per ricordare il significato di un determinato valore. Poi, separatamente, vedete che nella figura l'ho disegnato a parte, ci sono i valori, i numeri interi, numeri come diremo tra poco in virgola mobile, cioè numeri frazionari, i testi, le stringhe, eccetera. Il mondo delle variabili e il mondo dei valori sono separati e ogni variabile nella sua vita punta, si riferisce, fa riferimento, il verbo che useremo è riferimento, fare riferimento, riferirsi a, ha un valore. A differenza del C, le variabili non hanno un tipo, sono tutte uguali, sono solamente dei nomi. I valori hanno un tipo. Questo 6 è un valore di tipo intero, questo 24.0 è un valore di tipo reale, Torino è un valore di tipo stringa. Queste variabili fanno riferimento a un determinato valore. Poi, essendo variabili, lo dice il nome, in un certo momento possono fare riferimento a 6, in un altro momento possono fare riferimento a 7, perché questo valore può variare. Varia il valore e varia il valore a cui la variabile fa riferimento. Quindi noi dobbiamo imparare a come fare a creare una nuova variabile, quindi creare un nuovo nome in questa tabella di variabili e assegnare un valore iniziale a questo nome e così come assegnare dei valori nuovi, variare il valore di queste variabili. La sintassi è molto semplice in Python. Per creare una nuova variabile basta attribuire a questa variabile, è sufficiente attribuire a questa variabile un valore iniziale. Quindi se io scrivo un'istruzione Python, lattine uguale 4, sto facendo due operazioni. Una è creare una variabile nuova che si chiama lattine, due è assegnare a questa variabile lattine il valore 4. Quindi in realtà vediamo che sono due sotto operazioni, creare il valore oggettino con il valore 4 e assegnarlo. Se io scrivessi subito dopo un'altra istruzione tipo lattine uguale 7, di fatto la variabile esisteva già, l'avevo già creata prima, quindi non sto creando nulla, ma sto cambiando il valore a cui la variabile che è la stessa di prima farà riferimento da adesso in avanti. Massimiliano mi chiede se posso creare una variabile senza assegnare un valore? No. In realtà sì, nel senso che c'è un valore speciale che si chiama non, non, in Python che vuol dire sarebbe sicuramente nulla, ma conviene non usarlo, è meglio non farlo. Una variabile senza un valore significa andare a cercare problemi perché poi da quel momento in avanti tutte le volte che usano le variabili dovrei chiedere ma ha un valore oppure non ha un valore. Quindi in Python si usa, diciamo così, come stile è quello di assegnare una variabile nel momento in cui serve. Non devo dichiarare le variabili all'inizio come faccio in altri linguaggi, le dichiaro quando mi servono, da quel momento in avanti. In qualunque momento io posso dichiarare una nuova variabile, sia anche all'interno di un ciclo, assolutamente. Poi queste cose le vedremo poco per volta. E quindi con queste due informazioni io già posso, diciamo così, costruire dei miei piccoli frammenti di programma. Proviamo a vedere con l'uso cosa succede. A me c'è un sito che non vi ho mostrato ieri, è questo sito qua, pythontutor.com, che è un altro sito online in cui si può, diciamo così, eseguire i codici Python, ma ha il vantaggio, adesso ci andiamo direttamente, che è possibile visualizzare, diciamo così, l'interno della memoria. Non andateci tutti contemporaneamente perché se no questo sito non regge, ok? Quindi è un professore americano che l'ha fatto per i suoi studenti, l'ha messo a disposizione per tutti, però dice, fate attenzione che non è un sito che regga un carico esagerato, ok? Quindi se io scrivessi, come dicevamo, lattine uguale 4, scusate, ingrandisco un po', e poi clicco su, vabbè, live program in mode, che è quello, qui mi fa vedere il programma che ho scritto e il risultato dell'esecuzione di questo programma. Quindi vede che ho creato una variabile lattine, un valore 4 di tipo intero, e questa variabile lattine punta a questo intero 4. Se io subito dopo scrivessi lattine uguale 7, ciò che succede, per un attimo vedete che lui era riaggiornato, è cambiato il 4, è diventato 7. Posso anche con le frecce qua sotto andare avanti e indietro nelle istruzioni, quindi se faccio first metto la freccia all'inizio e quindi vedete, sono tornato all'inizio del programma e posso farlo eseguire una riga per volta. Quindi vedo che lattine uguale 4, non ho ancora eseguito, la freccia rossa vuol dire sto per eseguirlo, la freccia verde vuol dire ho appena eseguito, l'ho già fatto, quindi rosso qua vuol dire sto per scrivere lattine uguale 4. Next, ha eseguito questa riga e sta per eseguire, ha eseguito la riga 1 e sta per eseguirla 2. Dopo aver eseguito questa istruzione la riga 1 mi fa vedere che lattine vale 4. Lattine è una variabile che fa riferimento al valore 4, che c'è da qualche parte. Andrea mi chiede frame cosa significa, ma è frame perché lo vedremo quando faremo le funzioni esistono più spazi all'interno dei quali possono essere definite le variabili e quindi questo è lo spazio globale, frame sta per cornice, contenitore all'interno delle quali sono definite le variabili. Quali sono le funzioni, ogni funziona avrà il suo frame e avrà le sue variabili private. Quindi frame non vuol dire variabile ma vuol dire contenitore o contesto. Ok, quindi ho creato, torno indietro di un'istruzione, prima non c'era questa variabile, adesso c'è, l'ho creata e nel crearla assegno automaticamente un valore iniziale, assegno un riferimento che punterà un valore iniziale. La seconda istruzione vado semplicemente a modificare il valore della funzione a cui la variabile fa riferimento in quel momento. Ok? Quello che dicevo, chi arriva da linguaggi tipo il C ha un modello mentale diverso. Il C dice che il 7, il valore, viene memorizzato dentro la variabile. Ok? Una variabile è una scatola che contiene il valore, vi l'hanno spiegato così. Python è leggermente diverso. La variabile se vogliamo una scatola che contiene un riferimento, riferimento a quel valore stesso. Ok? Nella slide qua faceva anche vedere, per la slide precedente, faceva anche vedere che può succedere che lo stesso valore sia condiviso da più variabili. Quindi in questo caso la variabile città di residenza vale Torino, vale nel senso associata a un valore di tipo stringa Torino, la variabile città di nascita vale Torino anch'essa. Noi non sappiamo, o forse sì, internamente come si comporta l'interprete Python, però non è vietato che questo succeda. Quello è un valore e io avrò due variabili che casualmente, oppure per come le ho create, avranno lo stesso valore. Questo è un punto importante di cui ci occuperemo quando faremo le liste, perché prima di allora non è rilevante, non crea problemi, e il fatto che abbiamo due variabili che si dicono alias una dell'altra. Alias vuol dire un altro nome, un altro modo di chiamare lo stesso valore. Per ora non ci fa molta differenza. Però sappiamo che può succedere, non è un problema. Sarà un problema poi appunto quando cercheremo di modificare questo dato, ma le stringhe non si possono modificare, quindi il problema non ce lo poniamo fino a quando non faremo le liste. Allora, dicevamo, qui ci sono queste due modalità di assegnare un primo valore, riassegnare un valore, oppure eventualmente si può aggiornare un valore sulla base di se stesso. Quando noi facevamo, torno su Python Tutor, nel nostro esercizio del fioraio, avevo, leggo magari la somma dei prezzi, inizialmente era 0, e poi non sappiamo ancora scrivere un'iterazione qua, però facciamo finta che il prezzo valga 7, e io faccio somma uguale somma più prezzo, che cosa succede qua? Sto aggiornando queste variabili, quindi andiamo all'inizio, somma uguale 0, creo una variabile somma, l'assegno a 0. Poi ho una variabile prezzo che supponiamo di leggere dall'utente, mi dice che costa 7 euro questo mazzo e quindi una variabile prezzo che vale 7. L'istruzione alla riga 5 cosa fa? Uguale assegna, assegna un nuovo valore alla variabile somma. Questo nuovo valore è calcolato con un'espressione ermetica, una somma in questo caso, facciamo più tra due variabili. Tra che cosa? Tra il valore a cui fa riferimento la variabile somma, più il valore a cui fa riferimento la variabile prezzo. Che poi questa variabile somma, di cui prendo il valore che vale 0, perché ce l'ho qui, sia la stessa variabile somma che compare a sinistra dell'uguale, a lui non se ne accorge neanche. Non c'è nulla di particolare. Un'istruzione di assegnazione di un valore in Python, ma in qualunque linguaggio di programmazione, prima calcola ciò che sta a destra. Cosa faccio? Somma. Quanto vale somma? 0. Ok. Prezzo. Quanto vale prezzo? 7. Ok. Più. Quanto fa 0 più 7? 7. Benissimo. Allora, alla destra dell'uguale c'è 7. Prendo questo 7 e lo metto dentro somma. E quindi modifico somma in modo che adesso in avanti non valga più 0, ma quando esegui questa istruzione, quindi la freccia rossa mi dice stai per eseguire questa istruzione, quando lo esegui e quindi diventa verde, somma anch'essa è diventata 7. Che poi in questo caso coincide col prezzo, però. se io avessi poi un secondo fiore in cui il prezzo vale 3, uguale 3, e rifaccio di nuovo la somma, ovviamente la somma varrà 10, il prezzo vale 3, non è detto, coincideranno solamente la prima volta quando la somma precedente era 0. Ok. Allora questo è, se lo vogliamo, il meccanismo di base. Ci sono tre cose che si combinano qua. Creare una variabile si fa nome della variabile uguale valore iniziale. Modificare, aggiornare una variabile significa, si scrive nello stesso modo. Si scrive dal punto di vista sintattico, creare una nuova variabile o aggiornare il valore di una variabile si scrive nello stesso modo, ma ovviamente l'effetto è diverso, perché quando lo scrivo per la prima volta sto effettivamente creando la variabile da 0. Ok. E poi la terza cosa che abbiamo visto è poter segnare una variabile non solamente con un numero, ma anche con un'espressione che dipende da altre variabili. Allora, c'è qualcuno che arriva dal C e che si sta lamentando nella chat che gli operatori che in C in realtà potresti scrivere una cosa del tipo somma più uguale prezzo e in Python questo non funziona. Ok. Non esiste. In realtà il più uguale esiste, ma il più più non esiste. Sono piccola parentesi, se uno fa appunto questo i più più, tanto per dire, sta dicendo incrementa i. Si aggancia molto al modello mentale che il valore di i sta dentro la variabile i. Mentre invece questo uguale, se io faccio i uguali più uno esplicitamente, è molto più chiaro che sto calcolando i più uno e poi sto aggiornando il riferimento di i al valore nuovo. Allora, sul numero interno non cambia niente, però quando questa operazione qua di incremento la faremo con le liste, con le stringhe, cosa che in C non si può fare, allora il fatto di avere questa separazione mentale tra quello che sto calcolando e quello che sto segnando mi evita molte confusioni e molti errori. Quindi Python mi dice che non vivo vent'anni in più se risparmio tre tasti sulla tastiera, ma lavoro meglio se ciò che scrivo è più chiaro. Tendenzialmente proviamo a usare le istruzioni per esteso, almeno all'inizio, fino a quando non siamo eventualmente più sicuri di quello che stiamo scrivendo. Quindi questo Python Tutor lo useremo spesso quando cercheremo di capire cosa succede quando facciamo certe istruzioni, quando usiamo certe strutture dati. Ok? E ci aiuta veramente anche mentalmente a separare le variabili dai valori. Vediamo che i valori sono riusati, sono riusati più volte, non è un problema. E quando io scrivo un'altra cosa, se io faccio x uguale 5, ok? Y uguale x, ovviamente sia y che x e varranno 5. Quando io dovessi scrivere x uguale 7, subito dopo, quindi mi fermo, scrivo 7 e mi fermo l'esecuzione su qua, ok? Cosa succede? Quindi ho creato la variabile x e l'ho segnato il valore 5. Ho creato la variabile y e l'ho segnato il valore che in quel momento aveva x, perché il valore di x viene preso nel momento in cui l'istruzione viene eseguita. Questo non è un'istruzione matematica che dice che y uguale x è un'identità, devono essere sempre uguali. No, qui mi sta dicendo, senti, prendi ciò che ci sta a destra dell'uguale, vedi quanto vale in questo momento e memorizzano in un valore facendolo puntare da y. La riga dopo x uguale 7, cosa succede? Domanda, questo 5 diventa un 7? No. Quello che dice questa istruzione è, attenzione, io prendo un valore che è un 7 e faccio in modo che x non punti più, la freccia di x non punta più dove puntava prima, ma punta a questo nuovo valore che è un 7. Quindi il fatto che due variabili per un certo momento puntino allo stesso elemento non vuol dire che sono sposate e saranno sempre collegate allo stesso elemento, ma questo valore viene modificato. Quindi il valore 5 non è memorizzato dentro la x né dentro la y, è memorizzato fuori, nel mondo dei valori. La x e la y le usiamo come, diciamo così, gioccolieri per puntare un valore piuttosto che un altro, piuttosto che un altro. Ok? Allora, rispondo a Savio che mi chiede, io posso segnare un valore, ad esempio, per immettere? Sì, lo faremo in un'istruzione che si chiama input, ma la vediamo la settimana prossima. Ok? Perché c'è da lavorare con le stringhe, con le stringhe interi per fare la input. Quindi non è un'assegnazione, ma un'istruzione di lettura, una input. La differenza tra uguaglianza la vedremo anche quando faremo l'istruzione di scelta, perché finora, se non sappiamo ancora come fare le scelte, però sì, c'è la differenza tra i due uguali, ovviamente anche in Python. Ok. E quindi, infatti, qua ci ribadisce che il simbolo uguale è un simbolo che rappresenta l'istruzione di assegnazione, cioè assegna un valore ed eventualmente, assegna un valore, dà un valore ed eventualmente, se è la prima volta che capita, definisce anche la nuova variabile e inizializza questa variabile, cioè fornisce un valore iniziale alla variabile stessa. Ok? Che dobbiamo fare sempre nel momento in cui la definiamo. L'uguale non è né l'uguale matematico, né l'uguale di confronto, di uguaglianza. Ok? Questo l'uguaglianza si scrive in un modo diverso, si scrive col doppio uguale e non ci si confonde. La sintassi di Python, essendo più rigida di quella del C, in realtà, pur essendo più semplice, non crea quelle confusioni, quei rischi di sbagliare che invece vediamo in C spesso. Ok, quindi proviamo a approfondire un attimo che cosa è successo, che tipi di valore. Abbiamo detto, variabile, valore, ma che valori abbiamo? Essenzialmente partiamo studiando tre tipi di valori basi, dei valori semplici. Numeri interi, numeri frazionari oppure stringhe. Quindi quando noi creiamo una variabile o segniamo un valore a una variabile, diamo a questa variabile un valore che creiamo in modo letterale, in modo costante. Cioè quando io scrivo appunto, come prima, la prima volta x uguale 5, ho scritto 5 che è una costante che mi crea un numero intero. Se io avessi scritto 5.0 mi avrebbe creato un numero, sempre 5, ma a fianco vedete che c'è scritto float e non c'è più scritto int. Perché all'interno del calcolatore i numeri interi sono rappresentati diversamente rispetto ai numeri frazionari. Poi in realtà frazionari ho i numeri reali. Allora qui è una questione di terminologia e lo vedremo meglio quando vedremo la rappresentazione dei dati. I numeri reali sul computer non si rappresentano appunto, perché i veri numeri reali hanno infinite cifre decimali e qua sicuramente numero di infinite cifre decimali non ce l'abbiamo. Quindi non si può parlare di numeri reali. Potremmo parlare di numeri frazionali, cioè numeri che hanno una parte dopo la virgola, però in questo caso 5.0 non ha nessuna parte dopo la virgola, vale zero. Quindi si preferisce usare un termine che deriva dall'inglese floating point. In Italia non si usa tanto, strane nel campo dell'informatica, cioè si tradurrebbe come virgola mobile. Sono numeri che possono avere la virgola, la virgola c'è, non c'è, si può spostare, posso avere più o meno cifre dopo la virgola, più o meno cifre prima della virgola, in virgola mobile oppure appunto in inglese floating point. Poi floating point si abbrevia come float. Quindi non c'è nulla che galleggia, ma semplicemente è la virgola che si può spostare avanti indietro all'interno della pagina. Quindi per creare un valore di tipo frazionario, floating point o in virgola mobile si scrive un numero che abbia, che contenga almeno il punto decimale. Per creare invece un testo si può usare una stringa, cioè tra virgolette, come abbiamo già visto ieri, tra apici doppi o apici singoli. Il tipo è un tipo associato al valore e non alla variabile. Attenzione a chi arriva dal C. In C dichiara una variabile e la variabile è di un certo tipo. In Python no. In Python creo un valore, quel valore può essere di un tipo e poi lo salvo in una variabile. Ma la variabile è solamente il nome. Quindi quando io ho fatto, nessuno se ne è accorto, ma io ho scritto x uguale 5.0, va bene, era una variabile float. Torniamo indietro. Creo x, ho creato un oggetto floating point che è il numero 5 e l'ho segnato a x. Va bene. Poi ho copiato, ho creato una variabile y e alla variabile y ho assegnato lo stesso valore che in quel momento aveva x. Ok, quindi y punta a questo floating point, questo numero reale 5.0. Subito dopo assegno un nuovo valore a x. Però questo valore è di un tipo diverso. Cioè prima x conteneva, adesso contiene un numero in virgola mobile. Ma qui sto cercando di mettere dentro un numero intero. Ok? Cosa succede? Nulla di particolare. Semplicemente succede quello che succedeva prima. Cioè l'interprete Python creerà un nuovo intero che si chiama 7 e farà in modo che x punti a questo nuovo valore 7. Il tipo intero è associato al valore 7, non è associato alla variabile x. Le variabili non hanno un tipo in Python come invece avrebbero in C. I tipi esistono, anzi sono più forti i tipi del Python che i tipi del C, sono più rigidi, ma i tipi sono associati agli valori e non alle variabili. Quindi tutti quelli che dicono, ah ma in Python non ci sono i tipi, puoi mescolare tutto, è una bagianata completa. perché semplicemente la variabile non ha un tipo, ma il valore invece ha un tipo. Ogni singolo valore. Quindi la stessa variabile possiamo usarla in momenti diversi per far riferimento a valori di tipi diversi. Anche, poi rispondo anche ad Antonio, quindi la variabile può avere un valore iniziale, possiamo modificare questo valore iniziale, ok? Questa situazione qui non la troveremo quasi mai di una variabile che non ha un valore, proprio perché l'istruzione per definire una nuova variabile è fatta con l'uguale, quindi mi obbliga già a mettere un valore iniziale dentro. Quindi il fatto di avere una variabile che esiste ma non ha nessun valore, di fatto in Python è molto difficile da creare. Quindi diciamo che non si può fare, per semplicità nostra. Quindi posso creare, inizializzare e definire una variabile, oppure posso aggiornare il contenuto di una variabile. Questo è quello che abbiamo visto prima. Ovviamente devo farlo nell'ordine giusto. Io posso usare solamente variabili che ho già definito. Non sono obbligato, come in altri linguaggi, a dichiarare all'inizio tutte quali sono le mie variabili. Non sono obbligato a definire l'inizio e le definisco quando mi servono. Però ovviamente devo definirle prima di usarle. Se io facessi nel mio esempietto scemo y uguale a x, se lo mettessi sopra come prima istruzione, non funziona. Perché quando cerco di eseguire y uguale a x, sto dicendo esegui, crea una variabile y, e questo lo sa fare. E dagli il valore che in questo momento avrebbe la variabile x. È peccato che la variabile x in questo momento non ha nessun valore. Vedete qua il messaggio di errore che mi dà è name x is not defined. Cioè il nome della variabile x non è stato definito, non è ancora stato definito. Nella riga 1 non c'è ancora scritto. Nessuno mi ha detto cos'è x. Lo dirò solamente nella riga 3. Ok? Io quindi posso usare una variabile, diciamo, alla destra dell'uguale, solo dopo che l'ho definita per la prima volta dando di un valore iniziale, quindi usandolo alla sinistra dell'uguale. Ok? Quindi, nel caso in cui voi scriviate, ma questo può anche capitare quando io faccio un errore di battitura, mi scappa una x e per fortuna il compilatore, cioè l'interprete Python, mi blocca e mi dice no, guarda, attenzione che non mi dice hai scritto sbagliato la x, perché lui come fa a sapere cosa volevo scrivere? Però mi dice guarda, questo nome che è scritto xx non esiste, non è definito. Allora magari mi accorgo ma come non è definito? Eh, perché magari l'ho scritto sbagliato, io mi è scappata una lettera in più, una lettera in meno. Quindi questo è un, diciamo così, un segnale che mi dice che forse sto usando il nome di una variabile errato. Allora, veniamo un po' alle domande che avete detto. Posso sommare float e int? Sì, lo vediamo tra un secondo, vengono convertiti automaticamente. Si può creare una variabile vincolata a un determinato tipo? No. Una variabile è sempre una variabile. Il tipo lo assume nel momento in cui gli assegna un valore. Fine. Quindi il tipo, dire il tipo di una variabile non esiste in Python. In Python il tipo è di un valore, non di una variabile. Quindi su questa dovete riuscire, se avete questo, diciamo così, come imprinting, in qualche modo dobbiamo riuscire a superarlo. Poi torno sulle slide. Si può definire comunque il tipo della variabile? No. È una cosa che Python non prevede, non che non permette. In realtà esistono delle estensioni di Python che permettono di dichiarare qual è il tipo che tu intendi metterci dentro. Però poi lui non lo controlla. È semplicemente una documentazione in più. Ma ovviamente su questa parte qua non arriveremo. Allora, poi mi dice Federica X potrebbe essere una stringa? Certo che potrebbe essere una stringa. La chiamiamo proprio in un tuo onore Federica. E in questo caso anche qua lo posso eseguire passo a passo. X uguale a Federica crea un nuovo valore di tipo stringa e lo fa puntare a X. Poi fai in modo che Y punti allo stesso valore e poi X diventa 7 quindi da stringa viene trasformato in numero intero meglio non è trasformato o non è trasformato nulla. Viene creato un nuovo numero intero e viene fatta puntare la variabile X e quindi da questo momento la X punterà a un valore intero mentre un attimo prima puntava a un valore stringa. la regola è molto semplice non ci sono casi particolari o vincoli particolari cioè ogni volta che segni una variabile questa si prende il valore che gli tocca e quel valore può essere di un tipo intero di tipo stringa di tipo floating point e si può segnare più di un valore una variabile c'è una variabile che possa avere più valori sì lo vedremo però dalla quinta settimana in avanti quando faremo le liste per ora sono variabili semplici e quindi possono assumere solamente un valore per ora cominciamo a lavorare con i valori intero floating point e stringa poi vedremo i valori cosiddetti strutturati cioè una singola variabile contiene una collezione di valori ok allora andiamo avanti su due dettagli in più qui ci racconta a quello che abbiamo appena visto il fatto che la stessa variabile può assumere più valori e quindi questo è l'esempietto che prende 5 no una variabile tax rate quindi la diciamo la percentuale di tasso è uguale 5 come intero la stampa come 5.5 che quindi stamperà un 5.5 e in quest'altro caso non taxable è una stringa che viene assegnata alla stessa variabile che quindi in tre momenti diversi assumerà un valore intero poi un valore floating point e poi un valore stringa e questo funziona normalmente io quando ho fatto questo esercizio in realtà nella versione precedente della slide era così ed è sbagliato io ho fatto copia e incolla di questo l'ho messo sul rep.it e non mi ha stampato 5 5.5 non taxable ma mi ha scritto 5 5 non taxable allora poi rispondo alle varie domande che ci sono nella chat però facciamo questo esercizio molto semplice prendiamo questo e proviamo a incollarlo in PyCharm ah no era questo qua in realtà ce l'avevo già qua ok questo è esattamente ciò che c'è su questa slide precedente se io eseguo questo l'avevo già caricato prima mi stampa 5 5 non taxable dove è l'errore? l'errore difficile da notare è qua su questa lettera qua perché io nello scrivere la slide chiaramente non l'ho scritto dal compilatore e l'ho scritto direttamente perché tanto è facile tanto sono tre istruzioni sceme le metto come esempio e la dimostrazione è che gli errori si fanno sempre e se non li provi non te ne accorgi e questa r minuscola questa r minuscola fa sì che questa variabile tax rate con la r minuscola sia diversa da questa tax rate con la r maiuscola e vabbè e allora e allora ho creato una variabile diversa senza volerlo se lo metto su python tutor e provo a eseguirlo print variabili vabbè ha stampato variabili qua poi tax rate uguale 5 crea la variabile tax rate con la r maiuscola e la fa puntare a 5 e la stampa stampa 5 poi tax rate con la r minuscola che qui dove c'è il nostro errore qui me ne accorgo subito ma com'è che mi ha creato un'altra variabile io volevo modificare quella vecchia me ne ha creata una nuova perché gli ho detto io perché gli ho scritto un nome di una variabile diverso dall'altro questo già ci fa capire uno che dobbiamo fare attenzione a ciò che scriviamo e due che le maiuscole e le minuscole sono diverse sono da considerarsi diverse dal punto di vista del python quindi fa differenza e poi vabbè a questo punto scrivo print tax rate ma questa volta lo scrivo con la r giusta perché avendo fatto copia e incolla era giusto e quindi mi stampa nuovamente il valore della variabile prima ok e quindi mi stampa di nuovo 5 nonostante questa variabile strana abbia il 5.5 ma non sto stampando lei sto stampando l'altra poi vabbè la modifico la faccio puntare a una stringa e poi stampo la stringa questa cosa lo sapevamo già quindi per correggerlo devo mettere una r maiuscola qua e a questo punto stampa effettivamente i valori corretti lo possiamo questo vedere anche in PyCharm dove c'è lo stesso programma ieri dicevamo ma per fare il debug allora questo è un programma che abbiamo visto che non funziona ok 5.5 non taxable cos'è? maledizione poi questi errori così talmente scemi tipicamente non li vedi quando poi il tuo amico passa vicino lo guarda e dice ma è ovvio si vede l'errore è talmente stupido però se l'hai scritto tu tu stai pensando a cose più complicate e non vedi l'errore tante volte quando è semplice allora il debugger ci aiuta su Python Tutor con programmi molto semplici che sono fatti di poche righe si riesce a vedere ma invece programmi anche più complicati possiamo usare modalità di debugging di PyCharm quindi io metto un breakpoint qua sulla prima istruzione all'inizio stampavo solamente variabili ma e come dicevamo andiamo più calmi rispetto a ieri anziché eseguire il programma che esegue e stampa questi tre valori di cui il secondo è sbagliato lo esegue in modalità debug ok la modalità debug può funziona solamente se ho impostato almeno un breakpoint perché altrimenti lui parte e lo esegue tutto fino in fondo invece avendo impostato un breakpoint lui parte a eseguire il programma e si ferma nel momento in cui trova il primo breakpoint nel momento in cui l'esecuzione incontra il primo breakpoint debug variabili in questo caso sono entrato in esecuzione in modalità debug questa riga blu mi fa vedere dove sono fermo ok l'esecuzione del programma è arrivata fino a quel punto adesso posso andare avanti potrei andare avanti con questo tasto veloce cioè da qui in poi parti vai avanti ho già visto ciò che volevo vedere quindi vai a esci dal debug e continua a lavorare posso questo è il primo tastino rirsi un programma riprendi il programma posso bloccare il programma perché magari ho capito qual è l'errore quindi lo blocchiamo e lo vado a correggere posso riavviarlo da capo rerun qui sono tre bottoni che controllano l'esecuzione del programma stoppalo riprendilo oppure riparti da capo e poi ci sono invece questi altri bottoncini che sono quelli che mi danno l'esecuzione passo a passo step over vuol dire fai un passo oltre a queste istruzioni cioè vuol dire esegui fino esegui questa riga e poi e passa alla riga successiva ok c'è un'altra differenza che si chiama step into che invece entra dentro le funzioni che vengono usate in quella linea lo vedremo quando faremo le funzioni ok per ora quello che ci interessa è questo questo bottone step over che ci fa vedere che ci fa eseguire una riga per volta un po' come le frecce avanti dietro che avevamo prima su python tutor qui solo che qua non posso andare indietro posso solo andare avanti perché sto eseguendo il programma vero e proprio quindi sono fermo sulla riga 3 clicco questo eseguirò la riga 3 eseguo la riga 3 scusate la console fatemela mettere qua a fianco così la vediamo ok quindi qui a fianco ho messo la console l'output del programma prima ha stampato variabili adesso cosa è successo ho appena eseguito la riga 3 e sto per eseguire la riga 4 vedete che la riga blu si è spostata in avanti mi dice infatti qua sulla sinistra che sono fermo dove variabili.python 2.4 c'è la riga 4 e nel riquadro variabili è comparsa un tax rate nome della variabile uguale valore 5 di tipo intero le cose che già sappiamo ve le rappresentate solamente in questo modo poi c'è una print quindi step over print tax rate è stampato 5 e sono fermo alla riga 5 vado avanti tax rate uguale a 5.5 ecco qui succede la stessa cosa che succedeva di là ovviamente dove ho creato si è creata una nuova variabile con la r minuscola che vale 5.5 di tipo floating point e così via insomma vado avanti e farò la print di tax rate e mi fa vedere il 5 e a questo punto attraverso il debug riesco a vedere che ho creato una variabile che invece non avevo intenzione di creare quando faccio cambio invece a questo punto cambio veramente tax rate quella con la r maiuscola fa vedere che lui colore di blu le variabili appena sono modificate mi fa vedere che adesso fa riferimento al testo non textable di tipo stringa e così via posso ancora stampare a questo punto dopo l'ultima stampa le variabili sono scomparse ma perché? perché il programma è terminato sono arrivato alla fine quindi si sono distrutte le variabili perché il programma ha finito l'esecuzione ok quindi questo è il meccanismo di base con cui adesso abbiamo fatto degli esempi con delle variabili molto semplici però è il meccanismo di base che vale sempre alcuni dettagli ad esempio noi possiamo sicuramente cambiare il tipo di una variabile ad esempio tax rate la posso far diventare una stringa ma poi non posso pretendere di fare dell'aritmetica sulle stringhe ok se tax rate in questo momento contiene una stringa fare una stringa più 5 mi dà un errore in questo caso una type error dice che non posso sommare interi a stringhe mentre invece qualcuno prima mi chiedeva ma posso sommare interi e floating point allora la risposta è sì in realtà la risposta più bella sarebbe prova noi abbiamo imparato ieri che c'è la python console in cui possiamo provare a scrivere tra l'altro la console di python ha una cosa comoda per cui se io scrivo semplicemente un valore lei me lo stampa quindi non sono obbligato ogni volta a scrivere print per vedere un valore quindi se io scrivo 3 mi scrive 3 se io scrivo 3.5 più 2 quindi mettiamo spazio perché per leggibilità qualcuno si lamenta gli spazi gli spazi servono per rendere il codice più leggibile non paghiamo un tanto al carattere paghiamo un tanto al bacco che non siamo riusciti a risolvere perché il codice è tutto schiacciato 3.5 più 2 stiamo facendo la somma di un valore floating point e di un valore intero si può fare sì e da un valore floating point la stessa cosa la posso fare sulla somma al contrario python automaticamente converte i numeri interi in floating point quando deve fare un'operazione mista tra le variabili di vari tipi invece non fa nessuna conversione tra string e interi quindi se io faccio ciao più 3 mi dice type error posso solo concatenare string con altre string e non con degli interi ok questo l'ho fatto con delle costanti esplicite ma se io usassi delle variabili che a loro volta contengono quel valore come c'era scritto qua sulla slide tax rate in quel momento contiene una stringa la sommo quindi un valore di tipo stringa cerco di sommarlo a un valore di tipo intero non ci riesco ma se io prendo una stringa e cerco di sommarla a un valore di tipo stringa allora funziona perché a questo punto io potrei prendere la mia ciao ciao e sommarla a un punto esclamativo e ottengo una stringa che è la concatenazione delle due stringhe di partenza quindi stringa più stringa mi dà una stringa unica concatenata numero più numero mi dà un numero risultante e il risultato è in floating point se almeno uno dei due lo era altrimenti un intero se i due numeri che sto sommando fossero stati entrambi interi mescolare le cose non si può non avrebbe senso e quindi genera appunto un type R un errore di tipo i tipi sono incompatibili tra di loro in questo caso per questo operatore ok quindi noi dobbiamo è vero che una variabile non ha un tipo ma siamo noi i programmatori e sappiamo che valore ci abbiamo messo dentro quella variabile e quindi dobbiamo essere sicuri di fare su quella variabile solamente le operazioni che sono valide per quel tipo di variabile ok quindi se noi sappiamo che ci ha messo dentro una stringa non ha senso sommare lì 3.5 l'operatore più si comporta in modo particolare ad esempio perché abbiamo visto che nel caso di numeri fa la somma armetica nel caso di stringhe fa la concatenazione di stringhe quindi lo stesso simbolo lo stesso operatore che ha comportamento diverso in funzione del tipo dei valori che vengono usati sempre dei valori non delle variabili ricordiamoci impariamo a dire il tipo dei valori e non dire mai il tipo delle variabili Chiara mi dice se scriviamo print di x più 3 e x vale 2 ci dà comunque errore perché dovrebbe dare errore se x allora dipende se x uguale 2 lo scrivi dopo o se lo scrivi prima ok se tu stai scrivendo print x più 3 e la riga x uguale 2 viene solamente dopo ovviamente ti dà errore perché la variabile x quando è scritta la print non è ancora definita se invece x uguale 2 lo metti sopra e fai print x più 3 ti stampa tranquillamente un 5 ok allora noi abbiamo creato abbiamo visto che si possono creare degli oggetti di tipo intero di tipo floating point e qui c'è una tabellina che ci riassume un pochino le regole di sintassi cioè qual è il numero che python riconosce come intero e come è fatto invece il numero che python riconosce come floating point beh essenzialmente i numeri di floating point sono quelli che hanno il punto decimale oppure hanno all'interno una e che sta per la stessa e della calcolatrice quindi 10 e alla quindi 1 e 6 sta per 1 per 10 alla sesta un milione ok se io scrivesse un milione così 1 con 6 zeri sarebbe un numero intero che vale un milione se scrivesse invece 1 e 6 allora è un numero in floating point che vale che vale sempre un milione con la differenza che i numeri di floating point hanno sempre un certo margine di errore di approssimazione mentre invece il numero intero è sempre un numero esatto quindi questa è la sintesi generale per un numero in floating point 2,96 per 10 alla meno 2 ad esempio ok le altre tipi di notazioni non sono riconosciute dal linguaggio ma non ci verrebbe mai in mente di scrivere una migliaia così qualcuno prima chiedeva anche ma che tipo di caratteri posso mettere nel nome di una variabile posso mettere dei simboli speciali no nel senso che l'unico simbolo che posso mettere nei nomi allora i nomi di variabili possono contenere lettere numeri e carattere di underscore carattere sottolineato quindi 26 lettere minuscole 26 lettere maiuscole i numeri 10 numeri 10 cifre dallo 0 al 9 e il carattere sottolineato con la regola che il primo carattere non può essere un numero ovviamente perché non puoi chiamare la variabile 3x puoi chiamarla x3 cioè il primo carattere deve essere una lettera o al massimo il simbolo di sottolineato perché altrimenti lui non saprebbe distinguerlo rispetto a un numero intero gli altri simboli invece non si possono usare non si possono usare i spazi all'interno delle variabili e è fortemente suggerito usare dei nomi significativi per le variabili quindi le variabili io le ho fatte nell'esempio chiamate x e y però non è non è consigliabile ok è consigliabile invece usare dei nomi come questo tax rate era percentuale di tasse e quindi dare dei nomi anche lunghi alle variabili perché sono più facilmente riconoscibili perché è più chiaro capire qual è il valore che sto memorizzando dentro quella variabile per convenzione se io avessi una variabile del tipo che ne so durata della lezione diventa difficile da leggere così allora per convenzione si usa il cosiddetto camel case cioè mettere maiuscole a cammello cioè di fatto tu hai tutto minuscolo e poi intanto hai la gobba del cammello che corrisponde alla lettera iniziale alla lettera iniziale di dove iniziano le parole nuove e quindi inizia con la lettera minuscola e poi se la parola è lunga si usa una lettera maiuscola per convenzione poi potete usare la convenzione che volete ma diciamo normalmente in Python si tende a usare questa Luca ci dice ma potremmo anche chiamarlo durata underscore lezione ecco vediamo tra un attimo che l'underscore questa quest'altra sentasse la usiamo più per le costanti che non per le variabili quindi cerchiamo di usare questo poi ovviamente uno la può chiamare come vuole può anche chiamarla dl che vorrà dire sempre durata lezione ma adesso che lo scrivi te lo ricordi tra due giorni quando leggi dl dice cos'è decilitri e quindi sicuro non ti ricorderai più il significato di quella variabile quindi non facciamo non risparmiamo tasti non risparmiamo caratteri ma cerchiamo di essere chiari in ciò che scriviamo e quindi ci sono alcuni esempi di variabili nomi di variabili che rispettano queste regole e quelli che invece non rispettano ad esempio appunto come regola le variabili dovrebbero iniziare non è con la lettera è un suggerimento dovrebbero iniziare tutte con la lettera minuscola e non con la lettera maiuscola perché la maiuscola è riservata alle classi agli oggetti insomma parti che non vedremo ok a questo punto mi fermo qua mi fermo qua perché poi c'è la parte sulle costanti che non è complicata ma diciamo di carne al fuoco per il momento ne abbiamo già ne abbiamo già messo ok quindi io direi se non mi pare che ci siano domande in sospeso a cui non avevo ancora risposto se avete domande ditemelo altrimenti ci facciamo una pausa di 15 minuti vedo che c'è una persona che sta scrivendo ok diciamo facciamo una pausa e ci rivediamo riprendiamo alle 15 minuti quindi alle 11 e 35 ok ok